Il progetto Udatinos ha un rapporto molto bello e particolare con la scienza perché in Udatinos la scienza è situata nel bel mezzo della società. Nel progetto ovviamente la scienza ha un grande valore, il metodo scientifico, la possibilità di conoscerlo e di apprezzarlo. Però il posizionamento della scienza è quello che caratterizza questo progetto perché nel progetto Udatinos non troverete mai dei ricercatori chiusi in un laboratorio con le luci al neon che fanno qualcosa separati dal resto della società, dal resto della comunità. Tutti gli elementi del progetto sono pensati perché la scienza, con tutti i canoni necessari e importanti della scienza, come per esempio a partire dal metodo scientifico, sono progettati per avvenire nel bel mezzo della società. Per esempio, la raccolta dei dati necessari a fare questo progetto avviene in modo diffuso, quindi parteciperanno cittadini, studenti, attivisti. E come avverrà questa cosa? Avverrà per esempio iniziando da un workshop in cui persone che magari non sono mai entrate in contatto col tema dei dati, non l'avranno sentiti nominare, l'avranno sentiti al telegiornale, i dati dell'Istat, ma magari non avranno mai visto dei dati, magari non avranno mai visto come si raccolgono i dati, come si verifica che siano dati di qualità, come si verifica che siano dati coerenti con altri dati che sono stati raccolti dalla persona accanto, e quindi cosa stiamo descrivendo per esempio in questo workshop che avverrà? Stiamo descrivendo l'uscita dei dati dall'ambito esclusivamente tecnico e l'entrata dei dati nella nostra cultura, no? Perché se molte persone avranno a che fare con i dati e molte persone potranno pensare delle cose più interessanti riguardo a questi dati, a come si raccolgono, a come... a quali sono le implicazioni di questi dati e delle loro rappresentazioni, interpretazioni, no? Per esempio, in un momento come questo, in cui stiamo vivendo una pandemia, il fatto che delle persone, più persone possibile, siano effettivamente in grado di capire cosa sono i dati, che implicazioni hanno nella nostra società, come si... e si facciano per esempio un'idea di come si interpretano, leggono, rappresentano, e... è molto importante, no? È quello che può fare la differenza, no? E quindi, proprio per questo pensiero che abbiamo fatto, abbiamo progettato questa... abbiamo progettato l'intero Udatinos in questo modo, no? in questo modo, facendo convergere tramite l'arte la scienza, quindi i ricercatori, gli scienziati, la tecnologia, quindi questi sensori, questi modi di trasformare i dati in visualizzazioni, in suoni, in... no? rappresentazioni visive e la città, la società, le comunità, no? Tramite l'arte e questa ci è sembrata una cosa sinceramente bellissima.